bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi siamo qua con un video molto breve ma molto interessante che parla ovviamente di fortnite degli aggiornamenti di fortnite e in particolare ragazzi di una cosa molto molto curiosa che è apparsa qualche giorno fa nei cieli di fortnite abbiamo visto anche parecchi video su internet che ne parlavano ragazzi sto parlando esattamente di questo quello che vedete alle mie spalle ragazzi è un'immagine ripresa appunto dall'alto che mostra come vedete ad esempio proprio sopra il mio dito o anche là in alto dei cerchi che ci sono adesso nei cieli della nostra mappa e molti si sono chiesti ma porca miseria cosa cacchi ci fanno questi c'è adesso la meteora gli alieni le stelle cadenti ma oppure i cerchi nel senso sì sì ragazzi praticamente ragazzi questi cerchi nell'aria sembrerebbero essere facenti parte di una delle nuove sfide della settimana numero 9 ieri o l'altro ieri vi ho pubblicato il video con un bel leak di tutte le sfide che dovremmo affrontare domani se non ricordo male iniziano domani si parlava appunto di quella sfida che è già stata proposta questa settimana cioè visita i negozi di tacos ed infatti non si era ben sicuri come mai venisse riproposta sembrerebbe ragazzi che a sostituire quella sfida che abbiamo appena citato ci sia appunto il passare attraverso i cerchi nel cielo ragazzi quelli che stiamo vedendo appunto nella foto alle mie spalle voi cosa ne pensate ragazzi come vi sembra questa idea io particolarmente apprezzo che epic games che il team di fortnite abbia inserito anche una quest diciamo alare se la vogliamo chiamare così ragazzi comunque una quest che prevede di essere compiuta con la discesa dal bus voi invece cosa ne dite vi piace come idea pensate che sia giusto o avreste preferito avere qualcosa di diverso beh fatemelo sapere qui sotto nei commenti vi ricordo ragazzi di andare anche a vedere il video del 16.30 che uscirà tra qualche ora di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video e vi ricordo che se volete rimanere aggiornati giorno per giorno su tutte le novità di fortnite e fortnite mobile dovete solamente iscrivervi al canale noi ci vediamo in live ciao ciao